Un dialogo di circa 25 minuti declinato in italiano, inglese e russo. Come già a Benedetto XVI nel 2011, anche Papa Francesco si è collegato in diretta audio-video con un gruppo di astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il ponteificio, da una saletta dell'Aula Paolo VI, ha rivolto cinque domande all'equipaggio della missione 53, spaziando dal posto dell'uomo nell'universo all'amore come forza che muove tutto, passando per il tipo di attività che si svolge nello spazio e per le emozioni che si provano in un contesto tanto suggestivo. Voi siete un piccolo palazzo di vetro e la totalità è più grande della somma delle parti. E questo è l'esempio che voi ci dai. Grazie tante cari amici. Vorrei dire cari fratelli, perché vi sentiamo come rappresentanti di tutta la famiglia umana nel grande progetto di ricerca che è la Stazione Spaziale. Vi ringrazio di cuore per questo collocchio che mi ha molto arricchito. Signore, benedica a voi il vostro lavoro e le vostre famiglie. Grazie a tutti.